Nella strage in Texas compiuta da un ragazzo di soli 18 anni d'età, ben 19 bambini sono rimasti uccisi proprio in questa sparatoria alla Rob Elementari School di Uwe Dale. Ci troviamo in Texas stati uniti da me, che è una strage che ha scioccato tutto il mondo, soprattutto il paese in questione, ossia gli USA. Bene, io vi do adesso qualche nome di qualche bambino che purtroppo è morto in questa strage tra i 19, Xavier Lopex di 10 anni, Usia Garzia di 9 anni, Makena Lea Elrod di 10 anni, poi c'è Eliana Elias Cruz Torres di 10 anni, Steven Garzia, invece Jennifer erano i genitori, poi abbiamo Irma Garzia, che era invece l'insegnante di 22 anni d'età, Eva Mireles. Ecco, questi sono solo alcuni dei nomi delle persone fatte fuori da parte di un pazzo, perché non ci sono altri termini da utilizzare per chi va a uccidere ben 19 bambini in una scuola del Texas, vittime innocenti, probabilmente si sono solamente trovati in un luogo sbagliato, hanno detto sbagliato, che hanno perso miseramente la vita, ripeto, senza avere colpa di sorta. Questo dunque è quanto, vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, a queste vittime dico riposate in pace.